Salve a tutti e buoni Benvenuti alla prima puntata di ZTM Metal, trasmissione radiofonica dedicata al mondo della musica estrema. Io sono Gianni Oberto, mentre in regia con me c'è Nicolo Orfeo. Come detto poc'anzi, ZTM Metal è un programma dedicato al mondo della musica estrema. Spazieremo dal classico heavy metal al black metal. Ricordo anche che la musica trasmessa è sotto licenza Creative Commons, ma iniziamo subito il programma. Il primo gruppo che vi presento sono i Substance Black, un quintetto croato che suona industrial metal e che lo scorso luglio è esordito con il loro EP intitolato Sculptura. Ma andiamo ad ascoltare il brano Voidwalker. System, attivati. Ciao Ciao Grazie a tutti. 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 , Grazie a tutti. Musica HATE, VIOLENCE, MULNER, SUICIDE 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 Adesso invece è arrivato il turno di una band che viene dalla Francia loro si chiamano Start of the End un gruppo che personalmente mi piace molto loro suonano death metal core ma andiamo ad ascoltare il loro brano hip hop maniac A presto 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti